Ciao ragazzacci, io sono il M3125 e oggi siamo qui su Mashinky, siamo ancora qui su Mashinky Stavo guardando, ho modificato il 3 o 2 gli ordini, ho detto ok vai alla stazione 6 e aspetti il pieno caricamento Ma dovrei mettere un altro pieno caricamento anche alla stazione 5 C'è scritto, proprio c'è scritto, mettilo proprio, l'uso tipico è proprio dopo, after station command Quindi quando tu arrivi là devi aspettare di caricarti, di essere completamente carico Perché sennò non mi conviene a me avere, cioè questi qui sono merci, quindi è un carico merci Mi conviene che lui faccia il possibile, solo che adesso si è bloccato, perché si è bloccato? Perché questo qui, ok, lui è, dove è fermo? Vai, starta, starta ti prego Questo qui l'ha mandato un po' in confusione perché lui si crede di essere ancora lì Scusi signor treno, che cosa è successo? Perché si è bloccato? Non ho capito perché si è bloccato Allora facciamo una cosa, questo qui lo cancelliamo Vai qui allora Ignora, no Ho incasinato, l'ho incasinato Ho incasinato il treno, mi fa molto piacere averlo incasinato Quindi questo qui lo posso in qualche modo cancellare C'è un modo per cancellare questo? Questo qui me lo puoi buttare No, aspetta Quindi, full load io lo metterei qua Quindi lui sta scaricando, si è bloccato di nuovo Mi dà, io devo portargli del carbone a questo qui Aspetta, vai così Proverei a cancellarlo Ok, cancelliamo questo, va Così non ci sono proprio Se incasina se ne metto due Però non si dovrebbe incasinare Se io provo a rimetterlo adesso non si dovrebbe incasinare Io voglio che lui viaggi carico È inutile che abbia un treno che non funziona bene Quindi qua poi, quando arriva qui alla stazione 7 Lui deve scaricare Quello che mi serve a me Non so se ve lo ricordate Ma ve lo faccio vedere Mettendo un attimo il gioco in pausa Sono queste monete di... Non mi ricordo di carbone Il carbone, io ce l'ho qui vicino in qualche zona Intanto è terreno aereo Il carbone ce l'ho qui sopra Non è semplicissimo da qui sopra portarlo lì Allora io ho pensato E invece che prendere questo Allora, qui c'è un sawmill E non mi interessa Devo trovare qualcuno che mi produca questo qui proprio O questo qui sopra o questo Mi conviene prendere quello e portargli il... Sì, mi conviene fare così Mi conviene portargli qui questo carbone qui Che è quello più vicino Questa qui è la visuale carina da guardare Questa invece è la visuale costruzione Allora, andiamo subito qui Facciamo stazione In soldi ce l'abbiamo Quindi facciamo questa stazione qui E colleghiamola in qualche modo lì sopra Fai vedere com'è che ti colleghi Ti colleghi al cavolo Ok, però mo ti costruisco io per bene Quindi mettiamoci così Questa è la strada Quello che mi serve a me È che un treno possa... Posso uscire dal deposito 1 E collegarsi là Secondo me Ha la doppia uscita questo... Questo coso O no? Secondo me sì Cioè, secondo me dovrebbe avercelo A meno che poi se non ce l'ha In qualche modo troviamo un sistema di... Sbistamento Non lo so Poi vediamo Allora, visto che siamo qui Concelliamo questo Rimettiamo in... Il gioco in modalità bella Perché comunque mi piace vederlo Carino questo gioco Quindi lui... Ah, vediamo qui dove è il treno Il treno, il treno Ho perso il 2 Ok, è lui, è lui, è lui Quindi lui sta arrivando qui Ci sono 109 cosi Ok, quindi chiudimi Questo qui della stazione 6 Che non mi serve Lui carica tutti i materiali Questa stazione c'è un modo per estenderla Qui mi può mettere Oh, capacità delle persone Loading speed E questa mi serve 80 monete d'ore Si possono migliorare le cose Quindi possono migliorare le persone Ci sono un sacco di cose da poter fare Ok, va bene Mi fa piacere Quindi loro adesso si sposteranno di qua E andrà verso quella Dicevo Io devo prendere questo Deposito 1 Comprare un engine Qua mi costa 20 Mi costa tantino Anche perché io vi ricordo Che devo fare questa ricerca Non è semplicissimo Prendiamo questo qui E gli mettiamo Quello per il carbone Che è questo talbot Ne mettiamo 4 Ne mettiamo Ne mettiamo 4 Eh, sì Inoltre prendo questo treno Dov'è? Quale treno è adesso? Sei tu? Sì, sei tu Io do degli ordini Io dico che devi andare Prima qui E poi vai a scaricare Questo qui Secondo me ce la può fare Secondo me può uscire anche da dietro Non mi ricordo Come aveva detto prima per girare Premendo CTRL gira Sì Eh, infatti Di là non può passare Uh, sì Li ho incasinato la vita Ha perfettamente ragione Allora, andiamo un attimo di nuovo In costruzione Perché qui Li ho incasinato la vita Perché lui non ci potrà mai arrivare Quindi devo fare Una stradina Che è di qua Eh, no Non riesco a fare la curva Non riesco a fare Perché lui in qualche modo Deve prendere di qua Eh Boh, io lo faccio Lo faccio tornare così Lo faccio tornare Quindi lo faccio andare di qua Devo mettere però Dei segnali Devo mettere dei segnali Gli dico Guarda se c'è qualcuno Che impegna questa zona Eh, non passare Non passare Ecco Eh, vediamo se il treno Tre parte Il treno tre parti Ok, i segnali qua È il rosso Perché Sta partendo Si sta partendo È il rosso Perché quello lì Sta tornando Ma quando arriva qui Lui si deve fermare Perché altrimenti Qua mi incasina la vita Quindi gli dice Guarda che di qua Tu non puoi andare Perché c'è un altro treno Perché sarebbe rischioso Mettere E infatti ha sbagliato Scusi, dove sta andando? È pazzo Tu, aspetta Questo treno tre Vai al deposito No, il treno tre Si è impallato Scusi, il treno tre Che cosa mi sta combinando? Lei deve andare dall'altra parte Ok, quindi Questo qui se ne va lì E torna al deposito Questo qui Il treno uno Potrebbe ripartire Il treno due Non mi interessa Lo cancello un attimo E qui è tutta una questione Di controllare bene i treni Allora, questo qui Devo dire che Non deve andare di qua Non l'ho capito Perché voleva andare da quella parte Tu devi andare qui Alla stazione uno Ti giri E vai da quella parte Cioè, più semplice di così Muori Cioè, più semplice di così Muori veramente Ok, questo qui riparte Allora, riprendiamo il treno tre Ok, dico Treno tre Devi Aspetta Lo faccio partire Ok Riparti Treno tre Se va da questa parte È un pirla Gli stacco questa cosa Ok, no, funziona Funziona Adesso va da questa parte Non so perché stava andando da quella parte Stranissimo, infatti Lui va fin qua Poi arriva qui Si ferma Si gira E dovrebbe andare Fino a questa stazione otto Vai vedere Qui si gira Ok Speriamo bene Speriamo Perché Non mi fido mai Quindi di qua Ok Non mi fido mai Io non ho mai E sempre in tutti i giochi che ho giocato del genere Trovo sempre difficoltà a sistemare le persone Quindi qua c'ho poche persone Quindi questo qui funziona Io potrei fare delle altre Allora, Edimburgo E mid Allora, guarda qui Una parte vicina con tante persone 46 Eh, stanno aspettando Qui sono soldi, eh Qui sono tutti soldi Allora, andiamo in costruzione Modalità costruzione Allora, costruzione Mi serve una stazione Le stazioni Se io la piazzo qui Mi prende queste casette Me le faccio prendere tutte Allora Quindi mi faccio prendere queste E vai fino a qui No, qui non lo posso mettere Aspetta No, cancella questa Scusi Che caspita fa Ah, non va bene qua Ci dovrebbe essere un pulsante Per scegliere se montarlo Oppure no E io la metto da questa parte Guarda, io ti metto così E tu neanche Cioè, te lo faccio piacere Allora Io faccio questa curva qui E si dovrebbe collegare Dovrebbe essere abbastanza semplice la cosa Vediamo se mi si collega Non mi si collega Perché è stupido Quindi lo vado a fare io Il percorso Ok Il percorso c'è Allora Vediamo un po' Do stanno Questo qui è qui sopra Potrei mettere Potrei Potrei Invece Andare a modificare Il treno che già c'ho Perché è inutile Che ne compri un altro Compro treni 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 E qua io ho un sacco di strade Scusi Dov'è quel treno lì? Allora Tu stai funzionando Credo di sì Sì Mi si stanno accumulando queste risorse Perfetto Dov'è quel treno 1? Perché il treno 1 si è fermato? Vai treno 1 Ah Perché in pratica Occupava questa zona Però questa qui è una zona di scambio Ok ne metto un altro qui Così non si dovrebbe creare più problemi Allora Il treno Esci da questa cosa qui Il treno 1 Sei tu? Sì Ti do degli ordini Tu devi fare una cosa Vai Vai prima qui Ok Stazione 1 messa Dove stai andando? Reverse Dove vai? Perché sta andando di là? Che di là non ci sono neanche persone Ok i treni sono pazzi Ci sarà un incidente Reverse Ok fai stazione 1 Poi fai Stazione 2 Stazione 9 Ok E stazione 11 Mi piacerebbe che le stazioni avessero dei nomi diversi A meno che non si possono modificare da qualche parte No Non credo Info ci sono persone che aspettano Va bene Quindi fammi vedere dove è sto treno Sto treno qua mi farà esaurire Quindi lui è qua Ok Fa 1 Guarda 30 persone 36 persone sono belle persone Quindi mi serve tantissimo fare questa ricerca Quanto è che mi serve? 100 monete d'oro Le monete d'oro vanno piano Vanno Chi è che mi dà monete d'oro? Chi è che mi dà monete d'oro? Questo mi dà le monete d'oro Quindi devo per forza Tu stai andando bello potente A te non ti vedo tranquillo Allora questo qui lo tengo qui perché voglio vedere un po' come si carica Questo è fermo dalla vita È fermo Usci Vè che sta facendo qua? Ah forse sapete che cosa sta facendo? Non ci sono? Waiting this station Allora Allora sapete cosa c'è? C'è un problema Perché qua io devo togliere questo full load Quindi questo full load lo tolgo perché non riesco Dove stai andando? Reversati Ma dove va? Dove vanno? Dove vanno? Ma perché sono pirli i treni? Cioè tu sei Ah perché stai andando all'uno? Che sei carico Vabbè Va all'uno Va all'uno Non ci preoccupiamo Questo qui invece dove sta? Questo è andato a servire altre zone Quindi altri soldi che mi arrivano Lui è sempre bello carico Però ho fatto una cosa Dopo che vai all'undici Tu devi fare una cosa Ti devi fermare di nuovo alla nove E ti devi di nuovo fermare alla due Per poi recarti alla uno Vedete qua? Se no lui non tornerebbe Questo che possante è? Quindi questo veicolo non mi interessa Questo toglie Quindi skip the actual Non schifare niente Quindi nuovo va verso la nove Ok? Poi va di nuovo verso la due Quindi questo qui ci fa i soldi E i soldi possiamo costruire nuove Nuove strutture Dobbiamo trovare qualcuno Che voglia Come avevo detto che si faceva con la M Perché se mi cambia la mappa Io poi impazzisco Quando mi cambiano le mappe In questo tipo di giochi Io impazzisco tantissimo Allora questo qui va bene E qui devo trovare un altro di questo workshop Un'altra segheria Questa è la segheria Non mi interessa tantissima segheria Però perché devo dire che non mi interessa Qua c'è Warwick e Penzance Non so che caspita di nome è Se io prendo questi due Anzi vi devo di più Io prendo Warwick e Wallsolve Quindi prendo questi tre Le unisco Poi ci porto il carbone Lo lascio stare Porto questo qui E questo qui Poi lo porto a questo qui E faccio soldi E faccio soldi Eh sì E faccio soldi E però questo qui no Non serve a niente Potrei unire queste tre Però Si può Allora Progression Deforestation Che caspita vuoi Deliver Mille logs Da questa qua In dieci anni Fermi Fermi Fatemi capire quello che vuole No ritorno nella cosa bella Buongiorno Buongiorno Ello Quando incominciano con l'elogio Mi piace Loro voi Vogliono Che questo qui Consegni Mille logs Quindi questa qui Devo consegnare Mille logs A chi A questo Scusa Ce l'abbiamo vicinissimo Non c'è neanche bisogno Di chiederlo Che lo chiedi a fare Andiamo in costruzione Anzi Vi dirò una cosa Questo qui lo vediamo Nella prossima puntata Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un commento Mi piace Di iscrivervi al canale Se ancora siete iscritti Di condividere il video se potete E noi ci vediamo Nei prossimi episodi Ciao Ciao Grazie a tutti.